Mai disperare, gli affetti sono le cose più importanti. Le parole di Pietro Giordano, segretario generale di AdiConsum, sono rivolte a che è un'impresa che annaspa e che spesso rimane incastrato in una ragnatela fatta di disperazione, cartelle esattoriali e depressione. Mollare sembra essere l'unica soluzione e invece non è così, perché dallo scorso aprile è attivo il servizio Speranza al Lavoro, voluto da AdiConsum e Filcacis, che intende convincere tutti coloro che hanno difficoltà economiche a non compiere gesti estremi. Come? Parlando con psicologi, avvocati e fiscalisti che sono l'anima del progetto e che negli ultimi mesi sono stati contattati da oltre 2000 imprenditori, che hanno caratteristiche simili vivono prevalentemente nelle regioni del Nord Italia e gestiscono imprese a conduzione familiare Chiudere i cancelli delle loro attività in molti casi vuol dire mettere in pericolo la stabilità della propria famiglia tant'è che il 10% delle richieste di aiuto arriva da mogli e figli preoccupati per mariti e padri in preda al panico. Dall'inizio dell'anno a oggi sono più di 30 gli imprenditori vittime della recessione Confrontarsi e discutere serve invece a evitare che la parola default entri a far parte della propria vita Le associazioni però non forniscono soltanto assistenza e consulenza, elaborano anche proposte Noi avevamo fatto una proposta all'ABI, cioè l'Associazione Bancaria Italiana sarebbero bastati un euro a conto corrente, che come è noto in Italia ne abbiamo milioni di conti correnti di solidarietà per creare un fondo di milioni di euro per intervenire con microcredito Per me è una buona credit Grazie a tutti.